E bentornati su Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night La scorsa volta nel video non siamo riusciti ad andare molto avanti Ma ho fatto un po' di pratica, ho studiato il segreto per scompiggere questi terribili animatronici Guardateli tutti accesi nella modalità tutto 20 Ovviamente non siamo ancora in grado, credo, di scompiggere qualcosa del genere Anche se tutti insieme non ho paura di niente, non ho paura di affrontare tutti questi musi brutti Ciao a tutti intanto, ciao ragazzi, è sempre bello vedervi Ho pensato e mi avete suggerito che fare questo gioco in live potrebbe essere ancora meglio che farlo in video Perché così ci aiutiamo l'un l'altro, mi date dei suggerimenti Ho visto che voi conoscete molti segreti, forse molti in più di me Quindi diamo un'occhiata alla modalità 20-50 Sarebbero 50 animatronici, tutti quanti a difficoltà 20 Solo per renderci conto di quello che è Di quanto potrebbe essere difficile Preparatevi al jumpscare ragazzi Ah! Ok Come cacchio? Cioè io rido per non piangere Ragazzi siamo durati 8 decimi di secondo Jenny, come cacchio? Eh, io non ho parole Vi rendete conto? Vi rendete? Siamo durati meno di un secondo Cosa cavolo avremmo dovuto fare in quel secondo? Ci ha ucciso? Eh, chi ci ha ucciso? Sembrava la marionetta E' lui, eccolo Night marionette La marionetta fantasma incubo Non permettere che il tuo cursore del mouse Vada sopra di lei per troppo tempo Ecco perché ci ha ucciso Dovevamo spostare il cursore del mouse In ogni caso in questa modalità Anche il minimo errore Il più piccolo errore Può comportare la tua completa morte Quindi Io direi Per prendere un po' familiarità Con quello che è Mettiamo i nostri animatronici preferiti Datemi qualche suggerimento Chi volete vedere? Magari non esageriamo troppo Io ho messo Freddy Ho messo Foxy Chica no Perché Chica abbiamo visto nel video E' difficilissima da sconfiggere Perlomeno per ora Poi metterei magari Mettiamo i due Nightmare Nightmare Fredbear e Nightmare Entrambi modalità 5 Mettiamoli in due, dai Modalità 2 Difficoltà 2 Metterei ancora un quinto Che dite? Potremmo mettere No, marionetta? Vediamo la marionetta normale Che fa Continua Ok Questa si può mettere Questa si può mettere Tecnicamente l'unica cosa Che devi fare E tenere il Carillion Caricato In modo che lui senta la musica Mettiamolo a difficoltà 3 Ok Valore totale Della nostra sfida 170 Non è basso Non è basso Attenzione Non è basso Togliamo la marionetta Ok Andiamo così E vediamo che cosa Riusciamo a fare Scusate se a volte Ve lo dico già Probabilmente non succederà Perché sono un chiaccherone Ma se sto zitto per un attimo Abbiate pazienza Perché mi serve riuscire a capire Cosa succede Allora Foxy va tenuto d'occhio Poi abbiamo I due animatronici Fantasma Che invece compaiono di qua Mi avete consigliato di spegnere il ventilatore Per risparmiare energia Anche se questo fa aumentare la temperatura E la temperatura rende gli animatronici più arrabbiati Dobbiamo ricordarci di caricare Il cariglion Che credo ora sia carico Sapete che non lo so Sapete che non ne ho idea Accendiamo un po' di ventilatore Però non possiamo permetterci di tenerlo Per troppo tempo scarico E ho imparato anche dei tasti Per accorciarci Per essere più veloci Più reattivi Per esempio con la S Posso vedere direttamente il monitor Molto utile Con la A e la D Posso chiudere le porte Con la W Chiudo il condotto di reazione Con lo spazio Spengo il ventilatore Più il tempo La temperatura è calda Più gli animatronics diventano cattivi Non so se questo ve l'ho già detto O se lo sapete già da voi Ok il papagallo Ok c'era C'era un animatronico L'avete visto? L'abbiamo chiuso in tempo però Cosa possiamo fare? 60 gradi Ok ci abbiamo Abbassato la temperatura Rockstar Foxy ci aiuta Quindi è buono Abbiamo visto gli occhi Per un attimo Abbiamo potuto vedere gli occhi Quindi Se noi stiamo attenti Probabilmente non abbiamo Troppa difficoltà Ok? Ricordiamoci di ricaricare questa Perché non so quanto tempo Devi ricaricarla Non mi pare di vedere un indicatore Non mi pare di vedere nessun indicatore E questa cosa mi terrorizza abbastanza Diamo un'occhiata Continuiamo a dare Un'occhiata a Foxy Diamoci un'occhiata anche ai lati E dobbiamo accendere Uh assolutamente Dobbiamo accendere il ventilatore Iniziavano a esserci troppi gradi Ragazzi Con così tanti gradi Arrivano di corsa loro eh Sì Ok Foxy è tranquillo Non stiamo andando male Sono le due 64% di power Ciao Rockstar Foxy Spengo il ventilatore Dammi Un percento di power Può far comodo Ok Non stanno arrivando più Quei due Però darei un Ah Porca cutrettola Perché? Come? È vero No Me l'ero dimenticato Che c'era pure lui No Ecco chi Oh ero tutto il tempo raga Anna è qua comunque Ciao Anna Perché quando io gioco gli occhi Giochi horror Ho paura Quindi Le chiedo di rimanere a fianco Comunque Comunque Tutto il tempo pensavo Ma c'è uno che mi sto dimenticando C'è uno che mi sto dimenticando Ed era Freddy Mi stavo dimenticando Freddy Oh ci ha messo tanto ad arrivare Comunque Ok ok però dai Ce la possiamo fare secondo me Ce la possiamo fare Mamma mia Anna mi sono spaventato parecchio Mi metti un po' d'acqua Corri Allora Uff E non me la smettavo Perché Sembrava che tutto fosse Per il meglio Allora carichiamo un po' Questa music box Voi ragazzi mi dovete dire Se lo sapete La music box Quanto devo tenere premuto Perché Cioè magari è carica al massimo Io non lo so Capito? E questa è la mia domanda Spegniamo il ventilatore Dobbiamo ricordarci Di spegnere questo cavolo di ventilatore Su chi ha energia Come uno scellerato Ok Resetta la ventilazione Diamo un'occhiata qui Anche se Freddy non arriva così in fretta Mi state dando un voto di suggerimenti Un voto La baby Cioè con tutti gli animatronici baby Potrebbe starci Potrebbe starci Ecco Freddy che arriva Qua ancora Sembra tutto a posto Ricordiamoci di dare un'occhiata Se vediamo gli occhi Bisogna chiudere istantaneamente Spegniamo il ventilatore Ok Sembrerebbe tutto Relativamente tranquillo Diamo una caricata qui Qui Resettiamo la ventilazione Qua c'è Foxy Oh il pappagallo Porca miseria Mi faceva comodo L'ho anche sentito L'ho anche sentito Però mi sono un attimo distratto Ancora qui abbiamo tempo Diamo una caricatina Alla music box Freddy ancora lì Ok Ok Dobbiamo attivare il ventilatore Stiamo scaldando troppo 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 E stiamo consumando un voto di energia Però No buono No buono Signoritos Non arrivare così strano Anna Dai che mi fai paura Ma che sei un animatronico bonus E per favore Non ti si vede nemmeno Vai via Anna Dai ma mi pare possibile Cioè io ho Anna che mi disturba C'ho paura C'ho paura Devo spegnere Accendere il ventilatore No spegniamolo Spegniamolo Lo stiamo consumando Ma poi un'altra cosa Che io vorrei sapere raga Me lo dovete dire voi Oh il pappagallo Beccalo 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 Mi servirebbe La temperatura La temperatura La temperatura Fratello 60 gradi Ok diamo un'occhiata Veloce Freddy è vicino Freddy è vicino Chiudiamo Ok Lui se n'è andato Perfetto Riapriamo Occhio a Foxy Potrebbe arrivare Da un momento all'altro Diamo una ricaricata qui Ok Ricarichiamo un po' Ok ok Un po' di ventilatore Non sono ancora arrivati Due Nightmare Ma penso che arriveranno breve A breve Anche Foxy Siamo alle 3 del mattino Siamo piuttosto messi bene Ok Ma questo coso cos'è Poi sto robocchio Ogni tanto si accende Che cavolo è Sono spaventato 3 del mattino Siamo quasi alle 4 Sono spaventato Perché Non stanno arrivando I due Nightmare Oh Ok Vieni qui Mi servirebbe di brutto L'energia Il calore Il calore Il calore Grazie Rockstar Foxy Sei il migliore Sono le 4 del mattino Resentiamo Ventilazione Freddy è di nuovo qua Foxy è ancora lì Diamo una ricaricata qui Ok Controlliamo veloce Ok Strano I Nightmare Non sono arrivati Accendiamo il ventilatore Tanto stiamo messi piuttosto bene Come energia Stiamo messi piuttosto bene Un'occhiata Foxy Uh Foxy sta per partire Foxy sta per partire Sì Resentiamo ventilazione Una caricatina veloce Uno qua Uno qua Niente 5 del mattino Quasi le 6 Foxy ancora qua Freddy ancora È abbastanza indietro Dai E dai Oh madonna Che paura Grazie Però non mi distrare Perché qua la situazione È grave e drammatica 60 gradi Ci leviamo già Ho sbagliato Ok lui è qui Lui è qui Resettiamo ventilazione Caricatina veloce Occhiata qui Occhiata lì Dai Spegniamo il ventilatore Non voglio rimanere senza energia All'ultimo Occhiata qui Ok lui è dentro Foxy pure Chiudiamo Ok è andato via Freddy Uohe Avviamo con me Che esultazione era questa Uohe Vabbè 140 Perché 140 Non era 100 Ho tolto la marionetta No Vuoi vedere che ho tolto la marionetta E stavo ricaricando per nulla Non me lo dite Mi ha dato un power up Grazie Rockstar Freddy Frigid L'ufficio inizia con una temperatura inferiore E io sono un deficiente Perché io avevo tolto la marionetta E stavo ricaricando la sua cosa Ok 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 Non vi preoccupate Non vi preoccupate Adesso Diciamo che abbiamo fatto pratica Con Freddy Ok Io direi Facciamo pratica con questi due nightmare Mettiamoli a livello 5 Mettiamo a livello 5 anche Phantom Freddy Che teoricamente dovrebbe servire Cioè per allontanarlo Dovremmo semplicemente Illuminarlo con la torcia Ok Se non lo fai Ti frega Ok Non difficile Vorrei mettere anche Golden Freddy Che teoricamente Basta che tiri su Il monitor E non ti fa nulla Ok Fai giocare Anna Lo farò Ma oggi non sono riuscito A convincerla Forse voi potete farcela Anna Cosa diresti a uno Che ti chiedesse di giocare A 5 United Freddy's Ultimate Custom Night Ha detto ciao Credo che stia scappando Dal terrazzo Però non ne sono sicuro Vediamo Toy Freddy Oh Toy Freddy È un cavolo di casino Toy Freddy Non lo capisco raga Mettiamo anche Freddy Mettiamo anche Freddy Allora abbiamo un bel gruppetto Stavolta eh 250 punti di difficoltà Non facile Non facile Proviamo 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 Una bella sfida eh Voi mi dovete dire raga Assolutamente Il fatto Della Del Power Generator Se lo sapete Perché qua io Sto Power Generator Ma se lo attivo Guadagno Oh porca miseria C'era Golden Freddy C'è anche Phantom Freddy Cosa devo fare Raga Non se ne sta andando Ho un po' paura Spengo il ventilatore E Phantom Freddy Se non te ne vai Raga Ho un po' paura Ah Sì ma che cosa dovevo fare Ah no Ah Ok Ok lui mi spaventa soltanto Ma non mi fa nulla Oh mio dio Difficile Difficile Poi chi abbiamo Chi abbiamo Ah i due I due Nightmare Occhi aperti Per i due Nightmare Stiamo già consumando energia La torcia Ah giusto è vero La torcia raga Eh grazie grazie Avete ragione Mi ero confuso La torcia Per il Phantom Serve la torcia Per l'altro tirar su Per il Phantom La torcia Ok ok Devo ricordarmelo Il pappagallo Ok ok Ti chiedo Mi sa Mi sa che ti chiedo Il 60 gradi Di temperatura Perché è importante Molto importante Freddy sta arrivando Credo che non dobbiamo Controllare nessun altro Giusto Perché abbiamo I due Che però li vediamo Perché arrivano alla porta Quindi tecnicamente Loro due li vediamo Poi abbiamo Gli altri due Dobbiamo controllare Solo questa Solo quel monitor Giusto Anna Eh si Quella sta a magna Ma come Ma sei veramente Una persona orribile Comunque Ho fame anche io Eh merenda Io niente merenda C'ho una dieta ragazzi Una dieta terribile Ora Altro che Five Nights at Freddy's Quello si che fa paura Non poter mangiare Ah Ventilatore Ventilatore Alla fine Alla fine Alla fine Freddy Cavolo Freddy è vicino Chiudiamo Ok Tornato indietro Perfetto Sapete che forse Far salire la Il calore Ogni tanto Può anche essere utile Perché Almeno arrivano Quando li vuoi tu Tu sei pronto Loro arrivano tutti E poi non arrivano più Per un po' almeno Dammi 60 gradi Foxy Ok Allora Io sto aspettando Sempre i due Nightmare Lo vedo Via via Buscia via Tsozzus Eh l'ho mandato via Real good eh Vediamo se Il nostro amico È tornato qui Ok Stiamo andando bene Comunque Sono già le 3 del mattino 63% di energia Se non facciamo casini Siamo tranquilli Accendiamo un po' il ventilatore Dai Ancora non si fanno vedere I due Nightmare E io vi dico la verità Sono preoccupato Sono molto preoccupato Teoricamente dovrebbero arrivare Dove siete? Eh 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 Puscia via Puscia via Tu sei ancora lì? Niente Nightmare Niente Nightmare E loro sono quelli Che mi spaventano di più eh Dove siete? Ucci 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 Centodordi incubi E dove sono? Eh Piccoli luridi Infestatori dei sogni Quali sono gli animatronics Che vi fanno più paura? A me i I Withered Assolutamente Withered Arrivati in coppia? Eh Arrivati in coppia Ma io sono pronto Sai Eh Dai 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 Anna Dai Ero riuscito Ho tirato su la maschera Sono stato Troppo lento Di un millesimo di secondo Di un millesimo di secondo Grazie Freddy Della Power Battery Frega nulla A sto punto Riproviamo Riproviamo Questa qua era fatica Era totalmente Era facile Era facile E io mi sono fregato Come un bucarone Che non vuol dire niente I Nightmare Eh vi fanno paura Eh sì I Funtime Ma come i Funtime Sono quelli più tranquilli Bea Bea I Funtime No dai I Funtime Sono tranquilli Secondo me Tu Anna I Nightmare I Nightmare Sono quelli più Fan paura a tutti Cioè C'è niente da fare Nightmare Sono proprio Nightmare Vero? Mmm Mmm Così Cosa mi sono persa? Eh Allora Stiamo iniziando a procedere Per gradi Perché secondo me Bisogna Andare piano piano Cioè se ti butti subito Alla notte finale Porca miseria Lui è infido E quindi comunque Stiamo cercando di fare Prima Diciamo con meno animatronics In modo da capire Un po' come funzionano Eh Ci è successa una brutta cosa Esatto Eh Quello schifo Ha fatto apparire Un nuovo animatronico E Credo fosse quella Il nuovo animatronico E non so chi sia Eh Anna È apparso una specie Di mini boni rosa Voi raga lo sapete Chi è quella? Dai Meglio 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 Allora con golden friend Hai un istante Hai un istante Un istante Per 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 mascherarti Se no ti attacca subito Subito Ci riprovo Ci riprovo Non mi arrendo Non mi arrendo Mi ha disorientato La presenza Di quella lì Di quella Ballerina Zosserellina Perché altrimenti Ce la facevo tranquillo Tranquillissimo Tranquillissimo Tranquilli Di Di muoverti Un secondo Loro lo sanno Quando tu togli le mani dal mouse Loro lo sentono Sono maledetti Voi non ci credete Ma vedete che le storie Su Five Nights at Freddy's È tutto vero Il morso dell'87 O era 97 87 Brava È tutto vero E si dice Che la pizzeria Di Five Nights at Freddy's Ancora esista E che sia proprio Nella tua città Dai no È tornata questa qua Perf Ah ma mi sa che lei Può essere che sta zozza Appare quando ci sono 100 gradi Quella era Bonnet Ok Ok Eh New Challenger L'ho visto L'ho visto L'ho visto Non è una buona cosa Non è per niente Una buona cosa Adesso che cavolo Ne sappiamo noi chi è Il New Challenger Dammi l'un per cento Di powers Spegniamo qua Chi è il nuovo Allora Freddy Oh Eh stavolta T'ho fregato Tsozzo infido Ok Allora chi sarà il nuovo Qua non c'è nessuno Qua nemmeno No Qui no Non ne ho idea Ok Lì c'era uno Spegniamo il Il ventilatore Allora Credo di aver capito Che ci è Apparso Quello lì Chi era quello Tipo Balloon Boy Perché avevamo cento gradi Può essere questa cosa Però non ho idea Di chi sia Il nuovo animatronico Non ne ho idea Ok Era apparso un attimo Golden Freddy Però solo un attimo Dammi i 60 gradi Veloce Grazie 60 gradi Ok Resettiamo qua Ok Ok Sono le due Come siamo messi Piuttosto male Decisamente male Più che altro Perché non so Chi sia il nuovo animatronico Che cavolo è Che cavolo è E mi sa che è così Raga Mi sa che è così Vero Vero E che Ho lasciato riscaldare Troppo l'ambiente Per forza Io non vedo nessun altro Non lo so Non lo so chi è Forse uno dai condotti Non lo so Non lo so Chi cavolo è apparso Spero che sia apparso Almeno a livello basso Se no è la fine Tipo qua Non ne ho idea Oh Porca miseria Ok 3 del mattino Il fantasma Non può entrare Il fantasma Deve andare Siamo Caldini Caldini Tu te ne devi andare pure Grazie Arrivederci Tu sei arrivato Ok Andato via Fa un rintocco Non so se l'avete sentito Quando sbatte sulla porta Fa tonk E tu sai che sei andato Io non vedo nessun altro Però Qualcuno c'è Tu vai via Qualcuno c'è raga Per forza Per forza Scendiamo un po' Chi è però Io ricarico un po' La music box Metti che serve Che ne sai Fung Phantom Freddy Ok Stiamo a 60 gradi Stiamo tranquilli 5 del mattino 5 del Mattino Dammi 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 60 gradi Ok Oh la peppina Meno male che fanno anche la risata I Nightmare Li senti E' molto utile questa cosa Ciao Phantom Mi dispiace ma non sei benvenuto Non dovrebbe mancare molto eh Se non compare l'ultimo Quello che ha evocato Balloon Boy Come si chiama quella E' lei Bonnet No Bonnet era il coniglietto Dopo li dobbiamo guardare Uè Questo era difficile Questo era difficile Cioè Abbastanza difficile Great job 350 Cavolo Non male Good job Good job Uff Che fatica Là io ho tanta paura Non averne Non averne Da solo fa paura Ma tutti insieme no Infatti io da solo Senza la live Non ci voglio mai giocare Un po' di pratica La devo fare per forza Ma è un'altra cosa Il live è diverso Ora Abbiamo sperimentato loro Chi c'è apparsa C'è apparsa Bonnet Voi mi avete detto Che io non la trovo Tu la vedi Anna? Sotto Sotto? Ah ecco Allora Elpi mi è apparso una volta Bonnet Non la vedo Forse è uno extra Può essere che è un extra E che non c'è qui nella lista Perché qua c'è Rockstar Bonnet Bonnet Io non la vedo Potrei essere ceccato Però non mi pare Che ci sia Va bene Va bene Va bene Va bene Ok Allora abbiamo fatto pratica Con questi Ora Il mio obiettivo È fare questa challenge L'attacco degli orsi Nell'attacco degli orsi Ci sono i due nightmare Che conosciamo Ormai abbiamo Masterato le loro Tecniche di attacco Quindi sull'oro Siamo tranquilli Sono sotto la mia faccia Purtroppo ragazzi Non li potete vedere Sono qua Freddy Che conosciamo Pure Tranquillo Golden Freddy Tranquillissimo Phantom Freddy Tranquillo In più Abbiamo Helpy Che quando lo vedi Devi cliccarlo velocemente Ok Altrimenti ti dà fastidio Poi abbiamo Nedbear Solo a livello 1 Che ti arriva dal Condotto di aereazione Rockstar Freddy Che ti chiede dei coins Quindi devi avere almeno 5 coins Wow E Lefty Che Oh mio dio L'unica cosa per calmare Lefty È La musica Quindi devi tenere La musica accesa Non ho idea Di come dovresti fare Posso cercare Qui nella mia guida Forse Dunque Lefty Lefty Perché secondo me Di Lefty Dobbiamo avere una paura Incredibile Ve lo dico io C'ho il tablet Qua davanti Se mi date un secondo Voglio vedere Se lo trovo Lefty 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 Qua c'è Springtrap Sarà verso la fine Suppongo Lefty Non l'ho trovato Anna me lo cerchi tu? Lefty Come sinistrino Lefty Lefty E infine C'è Molten Freddy Che viene pure lui Dai vent Oh mio dio Quindi ne abbiamo uno Dai duct E uno dai vent Eeeh Mamma mia Devi sentire la voce Raga proviamo Proviamo Ma questa è difficile Questa è molto difficile Questa è difficile Questa è difficile Oh mio dio Chi cacchio è? Ma chi è questo orso? Ok Non è animato Quindi va bene Teniamo subito Il ventilatore C'è Phantom Poi abbiamo Freddy Quindi dobbiamo tenere D'occhio lì E fin qui I due Nightmare E fin qui pure Siamo tranquilli Però abbiamo Nel duct Ok sappiamo dov'è Sappiamo dov'è Sappiamo dov'è Quindi noi vediamo qualcosa Lì c'era uno Ok Eeeh Phantom Eh questo è più difficile Raga Nei vent pure Ok dobbiamo Tapparlo Ok Ok E' facile E' fattibile E' fattibile Perché sono lenti Quindi vedete Noi praticamente Vediamo dov'è Quindi siamo Più o meno tranquilli Porca miseria il calore Eravamo Caldissimi eh Caldissimi Come veramente C'è un caldo incredibile Ok Allora Teoricamente I due Nightmare Sono molto più aggressivi eh Eeeh Dammi 60 gradi E' passato? Com'è passato? Porca miseria E' passato E' perché quelli sono Allora noi vedete qua Abbiamo messo solo Un rallentamento Questo è solo un rallentamento Non lo blocca Permanentemente Capite? Quindi lui Comunque è passato Comunque è passato Eh Ok Cam Duck Ci abbiamo Qualcuno qui Ci abbiamo qualcuno lì Oh Vai via Qui nel vent Ce l'abbiamo ancora Lui è lì Freddy è più o meno Tranquillo raga Non la vedo bene eh Siamo bassi come power Ok Andato via Aspetta Non ora Ok Poi me lo dici Anna Poi me lo dici Porca miseria Questo non me lo ricordavo Dovevo cliccare Non l'ho cliccato Non sapevo neanche dove era Chi l'aveva visto questo? Vent Stiamo tranquilli Duck Lo attiriamo di qua No attiriamo Ah Porca miseria È questo Il nightmare Che cacchio erano queste voci? Ah dimmi lefty Allora dice che lefty si trova nell'armadietto nel corridoio di sinistra Ma lo devi guardare? Dice che si agita Ok Man mano che l'ufficio diventa troppo rumoroso o troppo caldo Ok Troppo rumoroso o troppo caldo Porca putretta Quindi lefty noi non l'abbiamo nemmeno visto E dove sta? Allora sta in un armadietto nel corridoio di sinistra Oh mio dio E per controllarlo cosa suggerisce? La musica dice qua Porca Riendiamo Dice la musica Suppongo che sia la musica Ogni tanto quando lo vedi Sì lo so lo so Quando lo vedi agitato devi accendere la musica Ok Spegniamo subito il ventilatore Mantene la calma raga Mantene la calma Via tu Ehm Allora Qui bisogna tenere d'occhio Suppongo che lui arriverà da lì Questo arriva da qui Lo attiriamo qui Ed è chiuso Ok Porca miseria A te chi cacchio t'aveva visto Col tuo corno maledetto Disgraziato Ehm Andiamo a vedere event Siamo tranquilli Ehm Oddio non tanto Non tanto E poi è brutto perché ora Questo sta fa i pernacchioni Nell'armadietto Un armadietto di sinistra Mi hanno ucciso Dobbiamo capire dove sta lefty Dobbiamo capire dove sta lefty Che figo quando ti spaventi Non per me Ok ok Ora lo troviamo E' stata colpa di quel maledetto di elpi Allora spegniamo subito il ventilatore Gestiamocelo bene Controlliamo qui Non controlliamo troppo Stiamo attenti a elpi Stiamo attenti a elpi Porca miseria Ma dove si è apparso Raga io vi giuro che elpi Non lo vedo Anna mi devi aiutare Anche con elpi Non ho idea Di dove cavolo sia E' tutti e due E' tutti e tre E' quanti Questo sta andando ancora Abbiamo un attimo di pazienza Spegniamo il ventilatore Devo ricordarmi di spegnerlo Ci sono tante cose da ricordarsi Non ne ho idea Dai Che disgraziato questo E prende anche in giro Questo prende anche in giro Questo sta Eh lo so che mi hai fatto lo scherzetto Anche di là Ok Tu dammi i 60 gradi per favore Mamma mia Mamma mia Non ho i 5 soldi 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 Stai a fare rumore Ora ce li ho Tieni Vattene via maledetto E cosa fa lui Ok Ah E beh è ovvio Stavo lì a deposita i soldi Io Anna E' difficile Ok Calmi 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 Torniamo al ritroso Chi ci sta bloccando questa volta I Nightmare Un po' Più che altro tutti insieme Lefty mi mette un'ansia incredibile E poi è a livello 1 Quindi teoricamente Non dovrebbe farci molto Cioè basta che tipo Una volta ci ricordiamo Di accendere l'aria E teoricamente Lui non dovrebbe dar fastidio Avevi detto che avevi bisogno Ma c'è anche Withered Bonnie Ma che Ma che Seriamente No Aspetta Forse si è Si è inserita per sbaglio E infatti Quel sozzo Mi ha messo Withered Bonnie Che cavolo Ok ok Ce la possiamo fare Lion Fa i caos Raga Questa è la prima È la più facile Io già ho problemi con questa Piano piano faremo tutto Se voi avrete interesse A vedere Tanto su questo gioco A me i Five Nights at Freddy's Sapete Minecraft E Five Nights at Freddy's Sono stati due giochi Che mi hanno Fatto andare avanti Su Youtube Credo Oddio in realtà Ce ne sono stati di più Però Una buona parte Sicuramente ce l'hanno loro Giusto Anna? Sì Quindi Birbello Eh Mi hai detto che avevi bisogno Con Elpy Sì Eh dove appare Elpy Elpy ti compresi Appare sulla scrivania Quando abbassi la telecamera Sulla destra Sulla destra Sulla scrivania Ok quindi Tipo qui L'unico modo Per mandarlo via È cliccarci Quello lo sapevo Perché non lo vedevo io Non lo vedevo Ma mi sono già bruciato Il 3% Andiamo male Tu vai via Ok Ok Allora Teoricamente qua Dobbiamo guardare Relativamente poco Secondo me Perché se apriamo troppo Tu sei un so Io non l'ho visto raga Cioè sarà che io guardo Anna Cioè guarda tu Io ti giuro Non lo vedo sto disgraziato Cioè dove cavolo appare Sto qua Oh no Non ce li ho Non ce li ho Non ce li ho Stai a fare rumore Arriva quello Un attimo Ecco Tieni Ma sei un disgraziato Sei Porca miseria La ventilazione pure Ora arriva Freddy Eccolo là Ma guardate che disastro Ok ancora va bene Teniamo un po' qua Speriamo che arrivi il pappagallo Eccolo Uh che fortuna Rockstar grazie Qua spegniamo 60 gradi Uh vent Oh vent E duct Duct non c'è Duct non c'è Mamma mia Andato Ma quella risata Chi è Mi sa che è lui È quello Che si arrampica Nei cunicoli L'arrampicatore Dei cunicoli Vai via tu Ok Attiriamolo qua Porca miseria Diamo un'occhiata qui Mamma mia Anna Sono solo le due di notte Ci stiamo avvicinando Non stiamo messi così male Dovrei raccogliere anche qualche altro soldino Perché altrimenti poi mi torna quel disgraziato Io non ho i soldi Ok ora ce li ho Oh Uno e due Tutti e due c'erano eh Togliamo lui Ventilatore Oh Freddy Ok Vent Stiamo a posto Mettiamo lo snare qua Mamma mia Cioè sono un Eeeh Mamma mia Resetta Ventilazione Sono tanti Sono tanti Sono tanti Dappertutto sono Sono le tre Siamo al 56% Non stiamo andando neanche troppo male Però Questo qua Dovremmo attirarlo qui Oh Uno era lì No Non guardare Attenzione Attenzione Oh Cavolo c'era quell'altro pronto Depositify coin Tieni 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 Stanno attaccando da tutte le parti ora eh Troppi gradi forse Quello è andato via Sì Questo Attiriamolo qui Spero di aver capito Bene Che con Cliccando nella zona dei Dact Posso Attirarlo Dact Poi che significa Dact Oh grazie Grazie Rockstar 60 gradi 60 gradi Freddi Ok Anna Mi sto Caccando addosso Ok Qui siamo tranquilli 70 gradi è un po' caldo Abbiamo 30% Siamo le 4 del mattino Dove è arrivare alle 6 raga Alle 6 È la fine Stanno attaccando molto Questo è tranquillo Un'altra volta Tieni i tuoi maledetti Tieni i tuoi maledetti 5 soldi Disgraziato Non lo so se ce la facciamo Attaccano Ah Sì ma porca cutrettola Dai Ti distrai un attimo È pronto È pronto uno I Dact Sono i tubi idraulici Ok 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 Invece i vent Sono i tubi Come si dice I tubi Del condizionatore Praticamente Mamma mia Mettiamoci un power up Tipo Non sono molto Però dai Mettiamoci la batteria E anche Quello E poi abbiamo anche Il DD Repel Che repelle DD Ma penso che Una volta che li usi Li consumi Credo Quindi non so se è buono Come cosa In realtà Ma ho messo Gli animatronici Ora Inizio a essere colto Dal dubbio Di non averlo fatto Non l'ho fatto Anna Quindi non c'è nessuno Eh E goditi La serata Allora Ma come E mo Allora Cerchiamo di capire Dove appare DD Quello là Tu mi hai detto Nell'armadio Nella hallway Di sinistra È qui quindi In questa zona qui Closet È armadietto Closet Io non ne vedo Closet Ti sei guardato indietro Per favore Che uscisse da lì C'è il ventilatore C'è il condizionatore Un attimino Mi viene il pensiero No Eh Allora sto morendo Mi lascio morire Perché qua non c'era niente Ho sbagliato Ad avviare la modalità Mi sa Ma morirò Magari ti dà tipo Un premio Se muoio senza nessuno Dico Ehi Purbone Beh Raga Che sta succede Rimane al buio Fino alle 6 Ma che davvero Eh si Posso fare Esc Vedo Vedo il buio Vedo Sento E mo Oh Mi si è chiuso il gioco Bene Ok 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 Calmi Riavviamo Questo è stato un incidente Di percorso Ok Allora Abbiamo detto Challenge Bear Attack Sì Per forza C'è anche Old Friend Ma Old Friend Sono tutti quanti Quelli a 20 Quindi scusate Se è poco È difficile Tutti quanto quel gruppone A 20 Proviamo di nuovo Bear Attack Secondo me Bear Attack Ce la possiamo Totalmente fare Totalmente È facile Basta credere In sé E già arrivano Ad attaccare Dobbiamo anche Recuperare I 5 soldini Per quello là È abbastanza Semplice Perché Quei due Li senti ridere Comunque Quindi Tecnicamente Non è troppo Difficile No Guardiamo una Rinfrescata All'ambiente Eeeh Zozzerellone Cosa ho fatto Togli la maschera Cosa combini Ok Va bene Più o meno Più o meno Tu sei un zozzo Io non ti vedo mai Io non ti vedo mai Dove cavolo Ti nascondi Qua Mettiamo lo snare Qua Attiriamolo qua Oh Golden Freddy Ui Te ne vai Grazie Ok Qua non c'è nessuno Vent Lui sta lì Tra un po' arriva Freddy è vicino Ok È arrivato Chiudiamo qua Perché tecnicamente Lui sta davanti Sì Che sta arrivando Ok È arrivato Ha sbattuto E se n'è andato Accendiamo il ventilatore Assolutamente Rockstar Freddy È un buon momento Per arrivare Sai È un buon momento Freddy sta lì Phantom Arrivederci Grazie Phantom Prendiamo un altro soldino Così non ci dobbiamo preoccupare più Dei soldini Possiamo pagare due volte Ma poi ma guarda Che criminale Cioè devi pure pagarlo Oltre che Non ti aiuta L'unico che ci aiuta È Rockstar Freddy Foxy Ho paura Ok Siamo messi bene Circa E lui è di nuovo qui Ok È andato Siamo alle due di notte Ben passate Anche Accendiamo un po' di ventilatore 64% Non buono Non buono Non buono No 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 Qua Come siamo messi Benino Qua un po' meno bene Allora L'unico che mi preoccupa È Lefty Però Lefty Ancora non ci ha attaccato Quindi secondo me Di Lefty Possiamo anche provare A non preoccuparci Per il momento Nel caso Ci viene ad attaccare Ci dà fastidio Poi cerchiamo di capire Come funziona lui Uno zozzo qua Andato Andato Lo zozzo davanti Che ride Ok Se lui ride Quando arriva Tecnicamente Non abbiamo bisogno Di controllarlo Perché Lui ride No Anna Quello che arriva Dal vent Ride Eh ma se ride Io lo so che arriva E quindi non devo guardare Ok Mi sto per Grazie Anna è sempre molto utile Ehm Prendo un percento di power Anche se dubito Che mi servirà qualcosa Qua non c'è niente Qua non c'è niente Quattro del mattino Ventisette per cento Stavolta che ho raccolto i soldi Tu neanche me li chiedi? La vedo male La vedo male Troppo poco Troppa poca percentuale Se provassi ad accendere Il generatore Io ci provo raga Io ci provo Vediamo se magari Mi aumenta Mi aumenta l'energia Siamo a ventitré per cento Stiamo facendo rumore però Ciò potrebbe comportare L'arrivo Di lefty Tecnicamente Potrebbe molto comportare L'arrivo di lefty Però Stiamo facendo un Panico Un rumore assurdo Sembrerebbe Che stiamo consumando Meno energia così Sembrerebbe Sì decisamente Decisamente Ok Abbiamo respinto Entrambi Credo Sì 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 Resettare Ventilazione Togli la maschera Mi sono spaventato Per niente Porca miseria Tu sei un disgraziato Tu sei Tu sei Non lo so Ce l'ho fatta Non ci credo Mamma mia 450 E questa era Questa faceva sudar freddo Però Questa faceva sudar freddo Era molto difficile Wow 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 Ok La prima challenge L'abbiamo completata L'attacco degli orsi 2 È più o meno La stessa cosa Se non fosse Che abbiamo in più Toi freddi a uno Che è molto infido Abbiamo in più Vabbè Loro due potenziati Però Non cambia troppo Abbiamo in più Nightmare freddi Quello che ha tutti i piccoli freddini Mi Quello lì era terribile Quando i freddi Iniziano ad accumularsi Nel tuo ufficio Illuminali con la flashlight Prima che il grosso freddi Arriva Fattibile Fattibile Nightmare fredbear Questo c'era? Sì Sì Ok Questi due c'erano E sono uguali Elpi è a livello più alto Nedbear è a livello più alto E Nedbear Non ha Non Diciamo che Allora sì Quel cerchio chiaro Che noi potevamo fare Era un rumore Per attirarlo Però prima non arrivava Così mai Perché era a livello 1 Qua arriva a livello 10 Stessa cosa Per Rockstar Freddy Che però non è troppo difficile Ti chiede 5 soldi Alla fine Qua si attiva un po' più spesso Quello che mi preoccupa di brutto Oltre che lui Molto in freddi Che fa comunque la risata Quindi tecnicamente è fattibile E Lefty Qua Lefty nella 2 È al 10 E Toy Freddy Toy Freddy dice che si siede Sta seduto nella stanza Delle parti e servizi Giocando a Five Nights Con Mr. Hug Sulla sua tv E tu devi cliccare Sul suo monitor Porca miseria No Cioè tu devi giocare A Five Nights at Freddy's In Five Nights at Freddy's Sul suo monitor Di Toy Freddy Cioè è indicibile Sta cosa raga È indicibile Scusate proviamo Proviamo una cosa Mettiamolo al 5 Mettiamo solo lui Vediamo che cavolo fa Cioè questo è impossibile Elpi sta sulla tv Ok Ok Allora Dovrebbe stare nella stanza Part and service Che è qui Porno Cioè tu devi guardare Le sue telecamere E chiudere la porta Lui ha 3 porte E tu gliene puoi chiudere Una delle 3 Vedi Devi riuscire a capire Quale delle 3 chiudergli Cioè tu devi giocare A Five Nights at Freddy's Per Freddy Sullo schermo Di Freddy Dentro Freddyception Cioè guarda qui Vedi Riuscite a vedere C'è un po' L'interfaccia nostra davanti Ma si vede bene Ecco vedi Lui si deve difendere Credo da quella specie Di scopettone Sì sì Vabbè ora questa Ha fatto apparire qualcuno E il bello è che ti canta Anche la canzone questa qua Ti canta tipo Oh che sfortuna Ti sto per fare Uno scherzo sinistro Va bene Va bene Ok abbiamo capito Volevo vedere Se tipo è davvero Questo scopettone Il suo mostro Sembra che comunque Ti dà tanto tempo Eh Ora c'è un altro Animatronic Nella Nella pizzeria E noi non sappiamo Chi è Sento vociferare Ma non ho idea Di chi sia Porca miseria Cioè ditemi voi Ditemi voi È difficilissimo Ora è qua Vedi è questo Coso È un aspirapolvere È su Ah ok Ecco chi era Interessante Era Withered Bonnie Uno dei peggiori Da cui subire Un jumpscare Ok Ok Almeno abbiamo capito Come funziona Toy Freddy Non bene Funziona non bene In modo molto aggressivo Vediamo cos'altro abbiamo Abbiamo Pay attention Pay attention Ti mette un set Completamente diverso Di animatronics Io direi Proviamo questa Perché già conosciamo Alcuni di loro Quindi Freddy Lo conosciamo Toy Freddy Abbiamo capito Nightmare Basta sflesciarlo Phantom Idem Golden Maschera I due Fanno la risata Lui Ogni tanto Si deve dare un'occhiata Nel duck E attirarlo Rockstar I soldini Lefty Ci fregherà Tantissimo E Molten Fa la risata Ok Quelli che fanno Un rumore Quando arrivano Sono più facili Da bloccare Perché li senti Se sei attento Teoricamente Ce la fai Allora Iniziamo subito A spegnere il ventilatore E raccogliere Qua Diamo un'occhiatina Ma Teoricamente Lui non dovrebbe Aver bisogno Di troppa attenzione Tu hai bisogno Di molta attenzione Ok Ci sono un paio Di quelli C'era un orsettino Non so se l'avete visto C'era un orsettino Prendiamo un paio Di soldini Porca cutretto Come se Hai già perso Il tuo videogioco Cioè lui Come ha fatto Era a livello 1 E già mi era arrivato A ammazzare Cioè Anna Hai capito Era a livello 1 Che cavolo Gli è successo E' scarso A fai venire Freddi Stoi freddi Che poi ha senso Cioè lui viene Jumpscherato Dall'aspirapolvere Per vendetta Jumpschera Me Quindi io Per vendetta Anna Dovrei jumpscherare Anna Però non ha funzionato Lettino l'asciugamano Sudato Aspettate Ok Questo ha funzionato Riproviamo Riproviamo Allora Toi freddi Sembrerebbe aver bisogno Di più Di più attenzioni Sorprendentemente Tra l'altro Spegni sto ventilatore Chi è? Uuu E baffa qui Queiro Te ne vai? Grazie Tu sei Io non ti vedo mai Io non ti vedo mai Io non lo so dove vai Però so che sei un disgrazi Game over Ah Cosa Come ho fatto a già perdere? Quello ho già perso Guarda Eh Ma sei scar Come hai fatto? Dai Mister Hux Got me again Te ne vuoi andare? Che schifo No no Che caos Fermi Come? Dopo fai Spring Trapper Dopo la vedo Dopo la vedo E solo che ho pensato Visto che ora conosciamo questi Magari no Ci aiuta Ecco Ok è qua Te Così sei contento Ah Schifoso L'ho visto stavolta È vero È sulla tv Oh ragazzi Confondeva un voto Vi giuro non l'ho visto Non l'avevo visto Porca miseria C'era C'era Golden Freddy Eh C'era Golden Freddy Lui va bene che lo attiriamo qui Lui Ok sta andando qua Qua Ok Luce Ventilazione Ventilatore Rockstar Fox Foxy Mi farebbe comodo un po' d'aiuto Eh stavolta non t'ho visto Stavolta non t'ho visto Stavolta no Eh Ok Oh A te non t'ho sentito A te non t'ho sentito Ma a te t'ho visto Sono tanti da tenere d'occhio Io non t'ho sentito fare la risata E tu l'hai fatta Non lo so Io non t'ho sentito fare la risata E questo mi fa infervolare Da dove cacchio sei arrivato Quello era Molten Molten Freddy Da dove è arrivato Vediamo Spring Trapper Grazie dei soldini Sì Dopo da te guarda Dopo Dopo aver visto ciò che mi combini Non mi piace più simpatico Spring Trapped Eeeh Cutrettola Spring Trap Phantom Mangol E lui ti appare sul monitor E devi chiudere il monitor Phantom Freddy Lo sappiamo Phantom Balloon Boy Sempre sul monitor E anche a lui devi chiudere JJ Side Vent Night Marionnet Lei non devi mettergli il mouse sopra Trash and Gang Non si sa cosa fa Non lo dice nemmeno Rockstar Foxy Ok lui è buono Però qua dice che Può esserci del rischio Accettando il suo papagallo In più Afton E Lefty Afton Ti attacca una volta a notte E devi chiudere Il vent di sinistra Di destra Porca cutretta E Lefty Oh mio dio No vabbè raga Questa è infattibile Questa è infattibile Ci proviamo Ma è difficilissima questa Spring Trapped è difficile Bisogna capirli Uno ad uno Eeeh Ok Però ora devo mettere la luce Quindi abbi pazienza Spengo il ventilatore Non metto il mouse su di lui La vedo Eeeh Ok Togliamo lui Eeeh Questo è difficile Questo è difficile Devi stare molto attento A dove metti il mouse Porca Miseria Si ho capito Ma inizia ad essere un pelo difficile Un pelino Eeeh E' entrato quell'altro Sta ridacchiando Mamma mia Mamma mia Mamma mia Cosa ho fatto Ah Che cacchio sei tu Quello è Trash and Gang Smettila di ridere Mi stai infastidente Mi arrabbio Smettila Grazie Ok Qua c'è nessuno Qua c'è Spring Trap Rallentiamolo Non ridere Non ridere Vattene Aiuto Ah Phantom Chi sei tu No 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 Mi metto la maschera Tengo il ventilatore Aiuto Ah 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 Andata 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 E' la luce E' la luce Data Chiudi davanti C'era Spring Trap Affacciato E' un panico questa raga E' un panico Mamma mia Ventila Ah la pepina Lui era quello che attaccava una volta per note Sì ma Cioè io gli ho sentito far rumore un istante prima che arrivasse Quindi vuol dire che hai pochissimo tempo per chiuderti Difficile lui eh Difficile questo qua Era lui questo mostro Afton Ti attacca una volta per note facendo un sacco di rumore E causando le luci ad accendersi e spegnersi Prima di attaccare Devi chiudere il Il condotto di destra Per bloccarlo Che teoricamente mi pare che è F Il condotto di destra Fatemi vedere Il tasto della tastiera F Io ve lo ricordo ragazzi Comunque se avete il coraggio di giocarci da soli O con gli amici Il gioco è gratis E' su Steam E' gratis Cioè di solito io non dico neanche comprate il gioco Perché Non vedo perché dovrei farlo Ma Il gioco è bello E' gratis Se vi piace Vale la pena E mi è piaciuto molto il fatto che il creatore lo mettesse gratis E' stata una bella cosa Si E allora Il tasto per chiudere Il vent di destra è D No F F F Porca Cioè hai un botto di tasti sulla tastiera E' difficilissimo ma bello Bello Difficile ma bello Riproviamo questa qua Springtrap Questa è difficile Bisogna essere molto attenti Secondo me Secondo me non devi neanche aprire il Il monitor Perché Per cosa lo dovresti aprire Giusto Cioè che te ne fai Sto cercando di Stavo pensando Stavo pensando Perché Oltre All'infamia no Cosa Chi ha bisogno di essere controllato Qui nessuno No Springtrap lo vedi quando arriva Poi Phantom Mangor Non guardi Lui non guardi Lui non guardi Lui lo vedi pure Dal vent Quindi anche lui con F Quando lo vedi Lui non devi Mettergli il mouse Eh questo qua Questo teoricamente Dovresti vedere le luci Quindi dovresti poterlo fermare Lui invece viene fermato Dalla music box Quindi magari ogni tanto Accendere la music box Che dite Potrebbe funzionare Non lo so Proviamoci Proviamoci Non ti clicco A te ti illumino Spengo il ventilatore Per ora Spengo il ventilatore Ok Ogni tanto la music box Ogni tanto A che livello era Lefty Dieci mi sembra Vero Dieci è alto Dieci è alto Dieci è alto Quante volte appare Ma avete visto Porca miseria Quante volte appare Il Mario 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 Metal Mario Non so che cavolo è Ma appare veramente Troppo È sempre lì Dobbiamo stare molto attenti Spegniamo Cerchiamo di gestirci Al meglio anche il power E stiamo sempre attenti A dove mettiamo il mouse Il segreto per battere Questo è quello Secondo me Non dobbiamo neanche Aprire la Il coso Secondo me Non lo dobbiamo aprire L'unica cosa Che dobbiamo fare Attenzione L'unica cosa Porca miseria Ma te ne vai? Ok Togliamolo qui Monitorare queste cose E monitorare Oppala Ok Non è facile Non è facile Non è facile Per un attimo Mi stava entrando quello Però l'ho bloccato Per tempo Secondo me L'unica cosa Dobbiamo fare È accendere la music box Però non mi ricordo il tasto 5 L'accendo L'ho accesa Ho anche bloccato Springtrap Ok Spegniamola Ok Oh attenzione Ah Attenzione Reset Ah Porca miseria Ho combinato qualcosa Ho combinato qualcosa C'è mangle Ehm Cavolo Questa non ci voleva Raga Ventilatore Tolta Andata 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 Apriamo lì 69% Due di mattina Eh Non stiamo andando malissimo Ma neanche troppo bene Foxy col suo pappagallo Ci farebbe comodo Ma non sembra che arriva Non sembrerebbe arrivare Resetiamo la ventilazione Diamogli un altro po' di musica Consumo un po' Ma non troppo Diamogli un po' di musica Porca miseria Raga Qual è il tasto del generatore? Uno Eh ma uno fa un sacco di rumore Uno fa un sacco di rumore Raga Springtrap Ok andato Raga la vedo male La vedo molto male Mi sono impegnato Mi sono impegnato Mi è arrivato Foxy però Mmm Non buono Non buono Non buono Andata Andata Tre del mattino Quasi quattro Quasi quattro Mettiamogli un po' di musica Un po' di musica Attenzione Ok basta musica Mamma mia Quattro del mattino Ventilazione Spegniamo qua Ai 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 Porca cutrettola Te ne devi andare Brutto che sei Mamma mia Non è ancora arrivato Quel maledetto Raga Raga Cosa bisognava fare Se arriva quello Anna te lo ricordi Non lefty Quell'altro Chiudere il vent di destra Può essere Mi pare Eh Balluno Balluno Boy Attenzione Ok Attenzione 5 del mattino 5 del mattino Siamo eh Cosa Cos No no Non è vero Non è vero che avevo il mouse su di lui Te lo assicuro L'avete visto Non ce l'avevo Ce l'avevo sulla sinistra Dai Dai Ti giuro Ce l'avevo il mouse sulla sinistra Raga Ditemelo Io sono sicuro Che ce l'avevo sulla sinistra Dai Ci mancavano 20 secondi Sono sicuro Sono sicuro Fammi vedere comunque Right vent Sì quindi F Dai raga Ve lo giù Ce l'avevo il mouse a sinistra No Come l'ho toccato Il suo braccio Ce l'avevo il mouse sul braccio No Quindi era tipo col braccio in avanti così No Che sfiga Che sfiga Proviamo un'altra volta Perché questa me la sento di poterla fare Non bisogna mai guardare i vent Ve l'ho detto Devi solo stare attento qua Spegni il ventilatore Ok Bisogna stare attenti Veramente attenti Dove c- E io metto il mouse sopra Io me lo metto sopra Toh Così non ti vedo E ti frego Chi ha parlato? Qualcuno ha parlato? Chi cacchio ha parlato? No Non ci pensare neanche Non ci pensare neanche Accendiamo un pochino La music box Anche se ancora Non credo che Ci sia motivazione Mamma mia Tu sei uno schifo Non so da dove arrivi Né cosa sei Maledetto Bruto Che cavolo è l'animatronico Scartato Quello là Ok Calmi Calmi Ci siamo E il generatore È uno Accendiamolo Accendiamolo Ma accendiamo anche La music box Ok Attenzione Togli il mouse Togli il mouse Nice Spegni il ventilatore Qua così Cosa abbiamo di acceso? Niente Ok Ah Perché Ma dai Cattivo Lo sapevo io Prima c'ero arrivato Talmente vicino Ma non ce la rifaccio Ma non ce la rifaccio Ma non ce la rifaccio Va bene Comunque Sono contento Che il gioco vi piaccia Si vede molto bene Dai commenti Da quello che mi scrivete Siete molto coinvolti Quindi sicuramente La prossima live La facciamo Mi raccomando ragazzi Continuate così Vi aspetto alla prossima Vi ringrazio tantissimo Per esserci stati questa sera Io direi che Per oggi possiamo chiudere qua Abbiamo completato Bersa Takuno Spring Trapped Praticamente ce la stiamo per fare Lo facciamo sicuramente Prima cosa Alla prossima live E poi andiamo avanti Un po' col resto Piano piano Per farci strada Fino alla Modalità impossibile Con tutti gli animatronici Al 20 50 20 Per questa volta Vi auguro una buona serata Buona cena E Lion Out